La storia d'amore tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio va a gonfie vele, sono sempre troppo occupata a guardarlo e lui, il mio cinema, racconta felice l'attrice a Two Style e continua rivelando alcuni particolari privati della love story più chiacchierata del cinema italiano. Lo fotografo continuamente con il telefonino, da quando sono fidanzata con Riccardo per una costanza di felicità ho trascurato i libri, quando sono innamorata non leggo, non ne ho bisogno. L'attrice ammette inoltre con sincerità che l'amore per Scamarcio aveva sollevato all'inizio qualche imbarazzo a causa della loro differenza di età, sì 14 anni, però comincio a notare tante altre donne con uomini più giovani, Tilda Swinton, Demi Moore, Madonna forse è esagerato, 50 anni contro 22 sono davvero tanti. A presto! 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 A presto!